23 anni e da 13 studia pianoforte. Da Lioni a Potenza, al Conservatorio Carlo Gesualdo, Giulia Martiniello è tra i giovani talenti irpini notati oltralpe. Dopo un'esperienza svizzera in una prestigiosa scuola di Lugano, la Martiniello ha deciso di tornare nella sua terra ed è stata ospite d'onore al penultimo appuntamento della stagione di Classica Ariano. Poter avere questa opportunità qui ad Ariano è già tanto per noi appassionati di musica. Io credo che l'Irpinia può dar tanto perché ci sono tanti talenti. Mi dicevano sempre in giro per l'Italia che è il sud siamo ricchi di talenti, però purtroppo non abbiamo le risorse. Quindi secondo me tutti dovremmo impegnarci a creare questi piccoli eventi che appunto sono sì un modo da spazio ai talenti, ma anche un modo di aggregazione, un modo per riavvicinarsi alla musica perché ricordiamo che l'Italia è patria della musica. La musica Questa stagione di Classica Ariano 2018 ha avuto questa particolare caratterizzazione, quella di dare disponibilità ai talenti della nostra terra di esprimere appunto il loro talento. E devo dire che sono stati diversi appuntamenti che si condensano questa sera appunto con il concerto della nostra Giulia Martiniello. Sono stati tutti i concerti molto molto interessanti che hanno in un'occasione dello scorso 20 agosto dato la possibilità anche proprio a studenti di potersi confrontare con il pubblico. Il nostro obiettivo è appunto questo, di fare promozione musicale e soprattutto di dare la possibilità ai nostri talenti di venire fuori un trampolino se vogliamo che ha trovato nel nostro Antonio Gomena diciamo la punta di diamante.